Dina Carinci, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, oggi un dibattito molto acceso in Consiglio Comunale per il bilancio, ma non solo. Sì, per il bilancio in modo particolare, perché è quello che ci premeva di più, sottolineare tutte le criticità. Io ho parlato sia di criticità sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello formale. A noi preme molto anche quello formale, perché vogliamo che i cittadini siano assolutamente al corrente di tutto quello che accade, che siano in grado anche di leggere un bilancio, perché no? Avete detto che in Aula vogliamo che i cittadini sappiano esattamente dove va a finire ogni centesimo. Assolutamente sì, ogni cittadino che paga i tributi deve sapere dove vanno a finire quei soldi. Critici anche per quanto riguarda le aliquete dei vari tributi che sono stati comunque trattati in Consiglio? Sì, non ci siamo, non abbiamo votato contro per partito preso, questo che sia chiaro. Intanto per quanto riguarda l'IRPEF la collega è stata molto chiara. C'è bisogno di una rimodulazione dell'IRPEF. Ogni cittadino dovrà pagare l'IRPEF in base al suo reddito e non tutti la stessa quota di IRPEF come accade adesso. Infatti sapete che si attesta allo 0,8% per tutti i cittadini. E per quanto riguarda le altre imposte noi riteniamo che effettivamente un piccolo sforzo nel senso della diminuzione di queste imposte poteva essere fatta magari risparmiando su delle spese superflue. Marco Marra della maggioranza ha replicato all'opposizione a proposito del bilancio tanto criticato nel Consiglio di oggi. Beh sì, prima cosa è stata una replica per tranquillizzare un po' i cittadini perché si sono usati termini secondo me molto pesanti, dissesto finanziario, richiedere il dissesto, parlare del comune di Vasto come il caso Parmalat. Mi sono sembrate esagerazioni che più che altro non è solo un modo mio per difendere la precedente amministrazione ma per garantire che i conti del comune di Vasto non sono in condizioni di dissesto. Si è parlato di residui attivi elevatissimi. I residui attivi del comune di Vasto sono come nella media dei comuni italiani per l'improporzione ai suoi abitanti assolutamente nella norma con l'esigenza di cercare di accertamenti già effettuati e scritti al ruolo di recuperare determinate somme. Da qui aggiungo che il comune di Vasto in questi ultimi anni ha recuperato molti più soldi di residui attivi rispetto al precedente. Così come gli avanzamenti, tutto ciò che è stato fatto è stato fatto nel rispetto, approviamo un bilancio ad agosto ed è stato fatto nel rispetto di poter far andare avanti la macchina amministrativa e la programmazione senza alcun problema, senza sperperare i soldi devastesi. Oltre ad avere un atteggiamento virtuoso in molti settori che mi piace ben ribadire sia nel sociale che nell'ambiente che nella cultura noi non abbiamo sperperato il denaro pubblico, abbiamo cercato di ottimizzarlo nella maniera migliore. E naturalmente ci auguriamo che la prossima amministrazione che dovrà lavorare su un bilancio 2017, di previsione 2017, faccia la sua parte. Con l'Avvocato Alessandra Cappa di Unione per Basto parliamo del bilancio. La sua lista ha criticato appunto il bilancio che è stato discusso oggi in Consiglio Comunale. Sì, lo abbiamo criticato, lo abbiamo criticato anche aspramente come dovrebbe essere nella natura di tutte le opposizioni che intendono guadagnarsi il rispetto non solo di questa Assemblea ma anche e soprattutto dei cittadini, ma ci tengo a dire che non lo abbiamo fatto sulla base del nulla in quanto io ho in rappresentanza sempre del mio gruppo riportato e indicato gli errori, le poste che non ci convincevano, ho dettagliatamente indicato addirittura le pagine del documento in cui tali errori e tali perplessità potevano essere da tutti controllate ed individuate. Quindi non è un esercizio critico fine a se stesso ma vuole essere e sarà sempre così un contributo per il miglioramento di questa città. È stata criticata dal Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Forte, per una citazione che ha fatto, una citazione che è stata considerata troppo forte. Io ho detto, vasto come Parma, rievocando quel caso con riferimento ad un aspetto di questo bilancio. Sono stata definita terrorista, ovviamente non accetto questa critica, non l'ho accettata in Assemblea, pertanto posso dire anche al di fuori dell'Assemblea che non l'accetta, non l'accetto perché non intendo farmi intimorire né farmi imbavagliare. Ovvio è che la dialettica dell'opposizione è una dialettica critica e quindi è una dialettica forte. Un'opposizione che viene qui a applaudire qualsiasi cosa o a rimanere peggio imbavagliata o in silenzio non è un'opposizione che fa il suo lavoro in una democrazia, altrimenti saremmo sotto un governo tirannico e io questo non me lo potrei mai perdonare. Io parlerò sempre, anche a cosso di essere definita terrorista, non credo di esserlo, credo invece di portare la voce di molti cittadini. Consigliere del Piano, allora parliamo del suo intervento durante il Consiglio Comunale di oggi. Praticamente ho rinunciato a qualsiasi incarico politico nell'ambito dell'amministrazione anche per avere maggior tempo da dedicare a tematiche di carattere generale. In più, agli annunci ci sono anche i fatti, ho mandato agli uffici comunali preposti di devolvere i miei gettoni di presenza del Consiglio Comunale ad un'associazione che si chiama ANT, Assistenza Nazionale Tumori. C'è stato anche un piccolo battibecco con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e anche con il consigliere regionale Pietro Smargiassi che era tra il pubblico. Più che un dibattito era una considerazione. Io ritengo che ognuno di noi nell'ambito del Consiglio Comunale debba ritenersi una risorsa. Al Movimento 5 Stelle ho solo detto che laddove loro presenteranno in Consiglio Comunale i provvedimenti che io riterrò valido, li voterò, non ho nessun problema. Poi chiaramente se vengo interrotto mentre sto parlando diventa anche un fatto di stile. Poi interrotto da un consigliere regionale del Movimento 5 Stelle sicuramente non è che mi ha dato fastidio ma insomma ne sono rimasto un po' basito. Música Música Música